... ... ... ... Hanno buttato via una grande chance qui in Lele. Si Pier, si è liberata bene ma al momento di concludere la rete non è riuscita a trovare lo specchio. Peccato... ... ... ...intervento brutto, vediamo cosa decide l'arbitro. Ammonicere che arriva dopo pochi minuti, l'arbitro non vuole farsi sfuggire di mano la gara. Intervento onesto, non cattivo, ma il giallo ci sta Pier, anche per placare sul nascere possibili vendette. Occhio, intervento brutto, vediamo cosa decide. Attenzione pericolo! Occhio da lì! E c'è il gol, trovano la rete che sblocca il risultato. Se ne va in velocità, attenzione! Attenzione, pericolo! Palla in rete, vantaggio che aumenta. Posizione interessante. Può segnare e riaprire il match. Dice di no con questo intervento! Non bene qui il possesso palla. Se ne può andare adesso! Eccone un altro! E adesso... Palla con il contaggiri. Si fa trovare al posto giusto e riceve. Palla che è uscita di poco. Avrebbe dovuto sfruttare meglio quest'occasione. Intercetta la traipalla che giunge a destinazione. Il portiere dice di no! Occhio al corner! Portiere che ha risposto da campione su questo colpo di testa. Dice di no